Sei un autotrasportatore? Sul tuo camion hai il cd, il cosiddetto baracchino? Ciao, sono Umberto di TrackPoint, centro assistenza di installazioni, riparazioni e modifiche cd. Ti piacerebbe trasformare il tuo cd? Questa che stai vedendo è una delle tante modifiche che si possono realizzare sul tuo cd. Si tratta dell'illuminazione effetto arcobaleno, con manopole trasfarenti retroilluminate e mascherina cromata by TrackPoint. Oppure ti posso far sentire la trasformazione e modifica dell'eco colt, effetto elicottero con doppio modulatore. Questa qui praticamente è la modulazione dell'eco colt con il doppio modulatore. Attenzione, signi ascolti, da parte mia direzione Cremona è tutta positiva. Quando puoi lasciare la portante c'è l'effetto Bip. Ok, era parato, ovviamente si possono aggiungere anche le modifiche con i centri di canali, il telecomando e tanto ancora. Come ben saprai, per un impianto cd funzionante serve anche un'antenna performante. Queste che stai vedendo sono le antenne cd by TrackPoint. Si distinguono per flessibilità, come vedi si può annodare, robustezza e taratura. Ti aspetto il 27 e il 28 maggio a Misanno Adriatica. Sarà un piacere rivederci o conoscerci per trovare insieme la soluzione migliore per il tuo cd. Ciao, da Umberto di TrackPoint.